E quella di lunedì prossimo sarà anche l'ultima messa che Papa Francesco celebrerà in diretta streaming e in diretta tv. Sarà trasmessa anche da noi qui su Teledeon. Non sarà celebrata a casa Santa Marta ma dall'altare della tomba di Giovanni Paolo II in occasione dell'anniversario dei cento anni dalla sua nascita. Da martedì invece torneranno le messe alle 7 e un quarto del mattino sempre su Teledeon, celebrate però dal santuario del Santissimo Salvatore. Il servizio. Lunedì prossimo 18 maggio è il centenario della nascita di Giovanni Paolo II celebrerò la messa alle 7 davanti alla sua tomba e l'annuncio del Papa rivolto ai fedeli e anche Teledeon trasmetterà lunedì alle 7 in diretta la messa del Santo Padre. Quella di lunedì sarà l'ultima di una serie che ogni giorno per più di due mesi ha accompagnato milioni di persone. In occasione della ripresa delle messe con il popolo in Italia, Vergoglio ha infatti deciso di interrompere la diretta della messa mattutina. Da martedì su Teledeon ritornerà alla messa alle ore 7 e 15 in diretta dal Santuario del Santissimo Salvatore di Andria.